BOLOGNCAGLIARI21CRONICOL EUDINESEFIORENTINA00CRONICOL Per il terzo giorno della Serie A del calcio. Bologna ribalta Cagliari nella seconda metà. Trovando il gol della vittoria, scuola tra favola 20 anni. Al primo gol in Serie A a segnare a 90 il centrocampista opportunista. Che sfrutta un errore da parte di Radunovic trovare l'obiettivo vincente quando la sembrava non si è. Rivolta al secondo pareggio stagionale entrambe le squadre e una partita dopo piena rimpianti. Bologna. Che aveva colpito un legno con Carlson e una penalità Orsolini e Torto. La squadra di Manieri mette il naso fuori dalla sua metà del campo per la prima volta al minuto 22. Quando Vitesca cerca e Luvumbo un lungo lancia direttamente dalla difesa Beuchema, cerca l'avanzata. Ma trafigge l'intervento e Luvumbo si trova in rete. Trovando l'obiettivo una diagonale a mano sinistra. Bologna. D'altra parte. L'intersezione dei Poli uno sfortunato così come Good Carlson. Un colpo da 25 metri al minuto 7. Sette minuti dopo ed ha per deviare una pericolosa conclusione di Zirksi in un angolo. Bologna crea un gioco occasioni e ha un doppio gigantesco con Carlson Zirksi al minuto 30. Mai. Tiri svedesi sul faccia faccia di Gadunovic. Mentre il portiere sul rivettato è bravo a dire di no anche Zirksi. C.A.G.I.A.R.I. soffre, ma anche un paio di tempo libero e soprattutto riavvio di Petagna. Ranieri. Tuttavia. Perde Petagna o l'intervallo. Per un problema dei vitelli e riprogetta la squadra con 532. I rosso-blu non ricominciano più e Bologna trova la partita al minuto 14 che riporta la partita in. Equilibrio. Christiansen beats beats beats. Un fallo laterale e si scambia Moro. Restituisce la palla in profondità filtrare per Zirksi. Che trova l11 con Mancino Ungadorvic si lascia sorpreso dal suo palo. L'ultima mezz'ora è l arredamento di Bologna. Che prova con Lumi. Einduai. Ferguson. Al minuto 72 Bologna ha l'occasione ribaltare Cagliari Cross di Christiansen. Una mano pardo e rigore. Ma Orsolini. Finora infallibile dal punto con Bologna. È sbagliato per la prima volta dopo nove penalità trasformata consecutivamente. Il ricorso dopo l'errore è evidente e al 79esimo minuto è Cagliari avere l'opportunità di vincere il. Lancio per Sulemana. Che dribbla posce e mette in parte la palla. Con Sulemana che solo nella gara spara in alto. Quando la partita è ora terminata. Su un tiro innocuo da Christiansen. All 89 gradi minuto. Radunovic para. Ma invece bloccare la palla rimbalza sul terreno. Proprio sul piede Favol cancellato giustamente dal 31 di Zirksi per il fuorigioco Orsolini.